ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale youtube in questa video lezione parleremo di disaccaridi e di oligosaccaridi i disaccaridi sono formati da due unità monosaccaridiche legate tra di loro attraverso un legame covalente chiamato glicosidico questo legame si forma tre carbonio numero uno dei due monosaccaridi e il gruppo sidrilico dell'altro monosaccaride nella formazione del legame clicosidico dobbiamo considerare un importantissimo aspetto come sappiamo i monosaccaridi in forma ciclica possono avere il carbonio numerico sia nella forma alfa che beta e a seconda del legame che si genera i disaccaridi derivanti pur se formati dalla stessa unità monomeriche possono presentare sostanziali differenze dal punto di vista chimico fisico ed alimentare pertanto si utilizza un opportuno simbolismo per indicare il tipo di legame ad esempio alfa 1 4 indica la formazione del legame tra il carbonio numerico alfa in posizione 1 del primo monosaccaride con il carbonio 4 dell'altro monosaccaride invece beta 1 4 indica che il carbonio numero 1 in forma beta anziché alfa e si legherà al carbonio 4 dell'altro monosaccaride tra i disaccaridi possiamo trovare anche legami 1 2 e 1 6 l'unione dei due monosaccaridi è una reazione di condensazione in quanto determina l'eliminazione di una molecola di acqua ci occuperemo dei seguenti disaccaridi il maltosio cioè lo zucchero del malto il cellobiosio il disaccaride derivante dalla cellulosa il lattosio zucchero del latte e il saccarosio che deriva dalla canna o barbabietola dal zucchero tutti questi disaccaridi hanno formula bruta c12 h 22 o 11 il maltosio è un disaccaride ottenuto come prodotto intermedio dall'azione dell'enzima milasi sull'amido ed è formato da due unità di di glucosio il legame tra i due glucosi e di tipo alfa 1 4 cioè tre carbonio 1 di di glucosio e il carbonio 4 dell'altro di glucosio il maltosio può anche essere ottenuto per parziale idrolisi con acidi acquosi da cui il nome di zucchero di malto esso si presenta sotto forma di cristalli aggiformi solubile in acqua ed è altamente digeribile trova largo impiego negli alimenti di neonati nelle bevande e viene usato nei processi fermentativi per la produzione di birra il cellobiosio è un prodotto intermedio dell'idrolisi della cellulosa viene scisso dall'emulsina che è un estratto delle mandorle amare oppure dall'enzima cellobiasi al pari del maltosio da origine a due molecole di di glucosio la differenza tra i due monosaccaridi sta nel fatto che a differenza del maltosio nel cellobiosio le due unità di di glucosio sono unite da un legame beta 1 4 anziché alfa 1 4 questa apparente o insignificante differenza riveste invece particolare importanza ai fini dietetici in quanto l'uomo a differenza degli animali erbivori non possedendo l'enzima cellobiasi non è in grado di idrolizzare questo legame e pertanto il cellobiosio non può essere assimilato dall'organismo umano il lattosio è un disaccaride di origine animale e viene anche definito come zucchero del latte conferendo a quest'ultimo un sapore leggermente dolciastro esso si presenta in cristalli solubili in acqua e per l'idrolisi acida fornisce una molecola di di glucosio e una di di galattosio il lattosio è facilmente attaccato da quei microrganismi che provocano le principali fermentazioni del latte dei formaggi la più importante fermentazione è quella lattica in cui il lattosio viene prima idrolizzato nei suoi due monosaccaridi glucosio e galattosio quest'ultimo viene convertito in glucosio e successivamente fermentati con produzione di acido lattico ne è un tipico esempio quello che avviene nella produzione di yogurt ad opera dei lattobacilli il latte materno ha un contenuto di lattosio che si aggira dal 2 all'8 per cento mentre nel latte vaccino è pari circa al 5 per cento il lattosio può generare in alcuni soggetti un disturbo alimentare molto diffuso chiamato proprio col termine di intolleranza al lattosio questa intolleranza è causata o da una ridotta attività o dall'assenza dell'enzima lattasi che è l'enzima deputato a rompere il legame glicosidico del lattosio questo stato patologico scompare solo con una dieta priva di latte grazie alle biotecnologie intolleranti al lattosio possono comunque alimentarsi di latte privo di lattosio che viene scisso per idrolisi enzimatica il saccarosio è il comune zucchero da tavola ottenuto industrialmente dalla canna da zucchero o dalle barbabietole da zucchero ed è il più abbondante di saccaride presenti in natura idrolizzando il saccarosio con acidi operazione dell'enzima invertasi contenuto nei lieviti si formano uguali quantità di di glucosio e di fruttosio questi due monosaccaridi sono uniti tra loro attraverso un legame che può essere sia alfa che beta 1 2 glicosidico in soluzione acquosa il saccarosio è destro giro mentre a seguito della idrolisi acida si ottiene una miscela levogira che prende il nome di zucchero invertito il miele ad esempio contiene zucchero invertito in quanto le api forniscono l'enzima invertasi la miscela dei due zuccheri glucosio e fruttosio presenta un potere dolcificante superiore al saccarosio e ciò consente un largo impiego nella produzione di bevande non alcoliche gelati e dolciumi il saccarosio si presenta di aspetto cristallino e solubile in acqua e poco in alcol etilico se riscaldato a temperatura superiore a 180 gradi celsius dapprima in biondisce e poi si decompone in zucchero bruno originando il caramello dal tipico sapore amarognolo commercialmente viene indicato come zucchero semolato bianco e zucchero grezzo di canna un altro disaccaride è il trealosio è un disaccaride che presenta un legame glicosidico per condensazione tra due molecole di glucosio ed è diffuso in lieviti funghi ed insetti questo disaccaride è stato trovato in quantità significativa in alcuni mieli di diversa natura botanica gli oli saccaridi sono carboidrati formati dall'unione di tre o più unità saccaridiche ne sono un esempio le maltodestrine e le destrine che sono corte catene formate da molecole di di glucosio esse sono assimilabili dall'organismo anche se meno velocemente rispetto agli zuccheri semplici grazie a questa caratteristica durante uno sforzo fisico prolungato questi carboidrati resi disponibili progressivamente possono garantire un apporto energetico per un intervallo di tempo maggiore il raffinosio è un trisaccaride costituito da una molecola di glucosio una di galattosio e una di fruttosio si trova nella barbabietola da zucchero ed è particolarmente abbondante nella melassa da essa ottenuta questi oligosaccaridi passano intatti nell'ultimo tratto dell'intestino dove sono metabolizzati da batteri presenti causando disturbi come meteorismo e flatulenza l'inulina è un oligosaccaride di riserva che viene estratta principalmente dalla radice di cicoria e topinambur si tratta essenzialmente di una fibra solubile composta da catene di fruttosio nonostante risulti indigeribile per l'uomo l'inulina possiede caratteristiche nutraceutiche molto interessanti grazie alla sua capacità di favorire la digestione e regolarizzare la funzionalità intestinale è un ingrediente tipico di molti integratori alimentari l'aspetto più interessante di questa fibra riguarda la sua capacità di elevare la percentuale di bifido batteri nella flora batterica intestinale diminuendo contemporaneamente la densità di batteri nocivi grazie 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 grazie